Lavorare con i lettori volontari di Libro in Giro è stato bellissimo, perché lavorare con i non professionisti, con la gente che lo fa perché è amateur, come si dice, perché ama quello che fa, è avere tra le mani quella forza lì, quell'energia, quella brillantezza, quella voglia di mettersi in gioco realmente, non per un obiettivo condiviso, e quindi già questo è straordinario, ma un obiettivo che è per far crescere una comunità, sì è stato molto speciale lavorare con i lettori di Libro in Giro, molto, è assolutamente una cosa che spero cresca, perché l'obiettivo può essere davvero quello di fare in modo che anche la persona che si ritiene il meno adatta possibile a leggere ad alta voce a qualcuno, senta che si va ben oltre la tecnica, il saper usare la parola, la voce, la gestualità, lo spazio, ma se c'è la voglia di farlo, quello è già più che sufficiente.